Un giorno un uomo prese il mio destino, io che dormiva un tratto mi svegliai, mi disse amore di non aver paura. Io sono una donna libera, lei lo sa cos'è la libertà, me lo dica. Con questa tua superbia, dove pensi di anni va? Dobbiamo occupare la scuola e dobbiamo essere tutti quanti uniti. Proletaria da strapazzo, io voglio studiare, ok? E non occuperò la scuola. La situazione con quella ragazza della quarta B è diventata insostenibile. Io voglio solo che la nostra scuola non si faccia una gattiva pubblicità. Sta girando le carte in tavola, presidente, lei è colpevole. La situazione non è semplice, Simonetta è sempre litigiosa, ribelle. La Simonetta è fiera di lei, è piena di orgoglio, ma nella vita così deve essere. Stiamo sbagliando, Alfonso. La responsabilità che grava su lei e su sua moglie è molto grande. Stai in guardia, ti ho avvisato. Ti ho avvisato. Sei figlia. Io so benissimo vadare a me stessa. Limita il tuo senso di libertà, altrimenti diventa l'anarchia e accadere il peggio. L'amore è diventato questo sconosciuto, il fior del male è sempre, sempre più voluto. E Butler l'aveva, aveva già capito, che il mostro dentro il mondo non è mai finito. Un diavolo da un cielo è caduto.